L'arena spirituale di Michele Antonio Zicchietto Benvenuti a questa nuova puntata dell'arena spirituale. Vi ricordo che stiamo facendo un percorso che ha delle tappe precise, dunque bisogna che le puntate siano seguite nel giusto ordine, in sequenza, dalla prima alla successiva, e non seguendo il gusto del momento o assalti. Altrimenti si rischia di perdere passaggi importanti e creare confusione o fraintendimenti, anche perché si tratta di argomenti molto delicati e sottili. Vi invito quindi a procedere per ordine nell'ascolto di questo podcast. E in questa puntata continuiamo il discorso sulla preghiera nel cammino di conversione. Diciamo subito una cosa. Ad ogni grado del cammino spirituale corrisponde una tipologia di preghiera, il che non significa che ci sia solo quella, ma che quel passaggio è caratterizzato dalla prevalenza di un certo tipo di preghiera. Più si cresce e più si acquisiscono nuove forme di orazione, quindi non vengono sostituite le precedenti, ma si aggiungono nuove forme di preghiera. Quindi non si perde nulla di ciò che si è conquistato prima, ma ci si arricchisce di nuove che gradualmente prevalgono sulle precedenti. Più avanti però mi spiegherò meglio su questo discorso. In questo momento noi ci troviamo all'inizio del cammino spirituale. Siamo entrati attraverso la porta della conversione, nella tappa ascetica, che abbiamo chiamato fase purgativa o stato di purificazione. Quello che vogliamo capire è che tipo di preghiera prevale in questa fase iniziale e in che situazione, in che ambiente, in che clima si sviluppa questa preghiera. Abbiamo visto come una condizione imprescindibile per far sì che nasca in noi la preghiera è che entriamo nella verità, che ci lasciamo illuminare e istruire dallo Spirito Santo per comprendere meglio chi è Dio e chi siamo noi. Questo è possibile solo se ci mettiamo nudi davanti a Dio ed entriamo in un dialogo profondo con Lui, facendo accadere ogni maschera e ogni immagine distorta di noi stessi, di Dio e della realtà. Dobbiamo uscire quindi dalla nebbia bugiarda con cui il diavolo, padre della menzogna, inganna il mondo. Ed è chiaro come chi vive secondo gli insegnamenti del mondo, che sono ispirati dal principe di questo mondo, come lo chiama Gesù, non possono che condurre un'esistenza ad immagine del loro padrone. Come possono pretendere di giungere alla verità se di fatto, abbracciando il mondo e il suo padrone, volgono le spalle alla verità che è Dio? Se come Pilato continui a cercare una verità ideale, ma impersonale, non potrai mai arrivarci, se semplicemente sulla strada sbagliata. Se invece umilmente entri nella preghiera ed accetti di incontrare la verità che è Dio e che Dio ti rivela, nel rapporto e nella conversazione interiore con Lui, allora la tua capacità di conoscere può dilatarsi, può crescere. La preghiera scaturisce spontanea come una sorgente d'acqua fresca dalla roccia della fede. E questo è proprio quando prendi coscienza che Dio c'è, che è vivo, che puoi parlarci e soprattutto che ti ama. Il fatto che ti rendi conto che Dio è presente genera una consapevolezza, e cioè che la realtà è molto diversa da come l'avevi immaginata prima e di quanto fino a quel momento hai vissuto in realtà nell'ignoranza. Il nostro sapere si basava su convinzioni dettate dalla superbia e dall'orgoglio. Pensavamo di sapere e invece il nostro sapere era nulla. Peggio ancora, erano una serie di errori. c'è quel passo del Vangelo in cui Gesù rimprovera alcuni che credevano di essere sapienti, di essere saggi, con delle parole molto dure, peraltro. E le sue parole risuonano un po' così, parafrasate. Se foste ciechi, ci vedreste. Ma siccome dite di vederci, ma invece siete ciechi, rimanete nella vostra ciecità. Sembra quasi un gioco di parole. In realtà è così, perché la superbia e l'orgoglio acceccano spiritualmente. Il superbo è convinto di essere intelligente, ma in realtà dalle sue parole e dai suoi comportamenti è chiara la sua insipienza. Perché l'ignoranza più grave è l'ignoranza di Dio, delle sue leggi e della vita spirituale. Tutto il resto viene di conseguenza. A che giova che il mondo ti esalti per la tua cultura, per i tuoi titoli, per le tue conoscenze, per le tue ricchezze, se queste non sono vere? Oppure non sono poste al servizio di Dio e dunque non ti salvano? A che ti serve? Badate bene che credere di sapere non equivale a sapere. Credere di poter far tutto non equivale ad essere onnipotenti. E fare tutto ciò che si vuole non vuol dire essere liberi. Questo è il pensiero distorto del mondo. Ma non è la verità. Dicevamo che la superbia conduce l'uomo, come il demonio, ad un delirio di onnipotenza, per cui si arriva a credersi un Dio. Ma credere di essere Dio non significa esserlo. È l'esperienza che dal diavolo è passata agli uomini proprio attraverso il peccato. Lucifero non ha accettato i suoi limiti di creatura. Non solo si è creduto come Dio, ma ha preteso anche la gloria che spetta a Dio. Anche il diavolo si atteggia a Dio e pretende dai suoi seguaci l'adorazione. È anche un'obbedienza che è in realtà una violenza e una sottomissione. Ben diversa dall'obbedienza che Dio, quello vero, chiede ai suoi figli, che invece è un'obbedienza d'amore. Quindi l'obbedienza diabolica possiamo dire che nasce dal terrore, dalla paura, dalla violenza. Quella divina invece nasce dall'amore. È obbedienza frutto dell'amore. Ma per quanto il diavolo faccia di tutto per essere considerato un Dio, non lo è. Perché resta sempre una creatura. E da questa condizione naturale non può uscire. Perché non dipende dalla sua volontà e dalla sua capacità. E allora vedete, vive una realtà fortemente frustrante. che è quella di chi vorrebbe essere diverso da quello che è, ma per quanto cambi forma, immagine, aspetto, la sua essenza, la sua natura non cambia. Ed è terribile l'esistenza di chi non si accetta e continuamente brama essere un altro. Alla base c'è un atto di ribellione verso Dio, di cui non si accetta la volontà e che si invidia. Questo vale per il diavolo e per contagio anche per tutti coloro che lo seguono. E oggi vediamo come queste false ideologie del mondo, nate all'inferno, potremmo dire, dal perverso pensiero diabolico, sono diffuse su ogni angolo della terra e abbiano invaso le menti e le società, tanto da diventare dominanti. Un pensiero distorto arriva a credere che tutto dipenda da se stessi. Se io penso o desidero essere in un modo, immediatamente lo divento. E se gli altri non lo riconoscono, il problema non sono io, ma sono gli altri. Si tratta chiaramente della perversione della logica, capite bene? Non basta che io mi convinca di essere un'aquila per esserlo davvero. E la prova che si tratta di una idea assurda si può dimostrare facilmente. Basta vedere cosa succede se mi lancio da una ruppe e provo a volare. Cioè, la verità è resa evidente dalla realtà. La realtà smaschera la menzogna. Applicate questo semplice pensiero alle tante forme ideologiche attuali, e non faccio un nome ma potete capire bene. Ideologie che vorrebbero assolutizzare l'uomo, e poi di conseguenza traete le vostre conclusioni. Ma la radice di queste idee distorte è proprio la superbia. L'uomo non è Dio, ed ha dei limiti oggettivi che derivano dalla sua natura di creatura. Quanta pace invece nasce dall'accogliere la volontà divina e dall'accettare ciò che siamo, i nostri limiti. Il diavolo ti convince che tu non sei felice, perché sei diverso da quello che dovresti essere, e ti spinge a desiderare continuamente di essere altro. Se vuoi essere felice e realizzato, ti dice, devi ribellarti a non ascoltare Dio. Non seguire il progetto che il Signore ha per te e per la tua vita. Allora, ti dice il maligno, assaporerai finalmente il frutto della libertà. Ti dice che tu puoi diventare qualcosa di diverso da ciò che Dio ha pensato per te. E che quella è la strada che ti porta alla felicità. E che non sarai mai felice finché non raggiungi questo ideale. Il mondo vive secondo questi principi. Ecco perché nessuno è felice è in pace. Invece la vera gioia si raggiunge compiendo il disegno di Dio per la propria vita. E fin tanto che gli uomini cercheranno altro da questo, non troveranno pace. Vivranno come il diavolo una vita frustrata, infelice. Perché senza Dio non si può stare felici. Non c'è felicità vera, non c'è pace vera, senza Dio. Esiste, vedete, un'ignoranza dovuta ad una mancanza di conoscenza, perché non si hanno gli strumenti per superarla, potremmo dire così. Ma esiste anche un'ignoranza volontaria e colpevole, che è quella di chi, pur potendo, preferisce non sapere. In questo caso ci si ostina su posizioni sbagliate e si sceglie di restare nell'ignoranza, anche se abbiamo la possibilità di conoscere, di sapere. Il pensiero è un po' questo. So che è errato quello che faccio, ma preferisco stare dove sono. Secondo gli insegnamenti della tradizione della Chiesa, Lucifero, con i suoi angeli apostati, pronunciò davanti a Dio le parole non serviam, affermando così proprio di non accettare la volontà di Dio e di conseguenza la propria realtà e i propri limiti. Questa accettazione è, invece, un atto di umiltà che permette di aprirsi al dialogo con Dio. Se tu non riconosci chi sei, non puoi crescere né cambiare. rimani fermo, anzi regredisci. Infatti nel cammino spirituale chi non va avanti torna indietro. E oggi è pieno di ciechi che guidano altri ciechi, come dice Gesù. Siamo invasi da falsi maestri che ti promettono la salvezza, mentre loro per primi non conoscono la via. ed è inevitabile che facendosi guidare da questi personaggi tenebrosi prima o poi si finisca per cadere in un pozzo. A volte loro stessi ingannano gli altri perché per primi sono stati vittime dello stesso inganno e sono convinti che facendo così sono nel giusto. Altri invece ingannano sapendo di ingannare. Di fatto però quando si cade nel pozzo, che tu ci sia finito volontariamente o per sbaglio, comunque la fine è uguale. Quindi nella vita bisogna stare ben attenti a chi ci si affida e discernere bene i veri maestri spirituali. D'altronde Gesù ci ha avvertito. stati attenti, molti verranno nel mio nome e inganneranno tanti. Io vedo che invece oggi la gente, e parlo anche di cristiani, si gettano come pecore dietro ad ogni vento di dottrina e ogni pseudo guru o vagente. Senza alcun discernimento e senza alcuna prudenza. Quando Gesù non ci basta più ed abbiamo bisogno di cercare altro, allora è segno che ci stiamo pericolosamente allontanando dalla strada sicura. Il diavolo insegna San Paolo. È un grande attore, è un trasformista e si sa trasfigurare in angelo di luce, proprio per attirare nei suoi trabocchetti gli incauti. A volte pensiamo che in una direzione ci sia la luce, poi ci accorgiamo che non era una vera luce. Come le falene, le farfalle notturne che sono attirate dalle luci ma purtroppo, spesso, si posano sopra e si bruciano. Perché non sempre le luci illuminano soltanto, ma spesso, se siamo imprudenti, finiamo per bruciarci. Quindi dobbiamo stare attenti a riconoscere le vere luci che ci guidano nella nostra vita. La preghiera iniziale del convertito è quindi proprio questa. Signore, fa che io veda. Che è poi la preghiera del cieco del Vangelo. Quando ti rendi conto di essere cieco, hai bisogno di qualcuno che ti guidi e che ci veda. Oppure di qualcuno che ti guarisca dalla tua cecità. O qualcuno che ti guidi, o qualcuno che ti risano. O entrambe. E allora la nostra preghiera deve essere questa. Signore, guidami nella mia cecità e guariscimi perché possa tornare a vedere. Il fatto è che noi siamo portati a evidenziare i difetti altrui, ma non i nostri. I ciechi sono sempre gli altri. Noi ci vediamo benissimo. Invece abbiamo bisogno di fare esperienze forti come quella di San Paolo sulla via di Damasco. Proprio per svegliarci dal nostro torpore e abbacinati dalla luce, dopo l'esperienza della cecità, ritrovare una vista rinnovata e che ci mostra tutto sotto una visuale, proprio una luce diversa. Allora le cose che prima sembravano essenziali perdono di importanza. E nel convertito si instaura un nuovo ordine di valori. Questo è un altro passo molto importante. Cambiare la gerarchia dei valori. Quello che si cerca in questo momento del cammino spirituale è il senso della vita. Vivere senza una direzione finisce per produrre una profonda frustrazione, confusione e depressione. I biografi di San Francesco d'Assisi raccontano che agli inizi della sua conversione egli visse un'esperienza che lo segnerà per sempre. Dicono così che mentre cavalcava sulla piana di Assisi, d'un tratto si trovò davanti ad un lebroso. Francesco aveva una specie di fobia, come diciamo oggi, un terrore incontrollato verso i malati di Lebro, perché era una malattia molto contagiosa e spesso portava anche alla morte. Per cui quando li vedeva, fuggiva immediatamente. E anche in questo caso il primo istinto è quello di girare il cavallo e scappare. Ma invece per vincersi, scende da cavallo, va verso il lebroso, lo abbraccia e lo bacia. E lui stesso racconterà che in quel momento sentì dentro di sé una gioia immensa. E ciò che prima gli causava sofferenza e paura, da quel momento in cui si tramutò in gaudio, dice lui, di anima e di corpo. E viceversa, ciò che prima reputava importante, perse ogni valore. E incomincia così a provare disgusto per quello che erano i piaceri precedenti. Sicché, di lì a poco, Francesco decise di uscire dal mondo per seguire Cristo. Vedete, di fatto, questo racconto ci insegna anche questo, di fatto quando si passa da vivere in modo carnale a vivere in modo spirituale, che le cose di prima perdono sapore, anzi, arrivano perfino a disgustarci. L'uomo carnale, come diceva San Paolo, non comprende le cose dello spirito e viceversa. Non ha una sensibilità spirituale e cerca invece solo ciò che può appagare i suoi sensi. E' come il maiale che ha sempre il muso nel fango e non alza mai gli occhi al cielo. L'uomo spirituale, invece, è come l'aquila che vede tutto dall'alto e trascorre la sua vita in cielo. Chi entra nella vita interiore inizia a gustare le cose divine e perde voglia per quelle umane e mondane. I vizi e gli odori passati ci si mostrano nella loro reale bruttezza e perciò ci provocano disgusto e paura. Ed è proprio questa paura che ci spinge ad evitare le cadute e il ripensare al male fatto in passato genera quello che i monaci del deserto già nel IV-V secolo conoscevano con il termine di pentos. Pentos, ossia pentimento. Il pentimento è, nel cammino spirituale, soprattutto all'inizio del cammino spirituale, è fondamentale. Tanto che non c'è nulla che il demonio cerchi di impedire di più in un'anima che il pentimento. Per il semplice motivo che solo col pentimento ci si salva e solo senza il pentimento ci si danna. Ed è facile arrivare a capire come mai una certa teologia errata, deviata potremmo dire anche, influenzata certamente da un pensiero satanico attraverso varie vie, in passato come oggi, abbia cercato proprio di eliminare dalla catechese e dall'insegnamento ogni riferimento alla necessità del pentimento per la salvezza eterna. Quasiché la necessità del pentimento del peccatore mette in dubbio la bontà di Dio, mettendo in contrasto quindi misericordia e giustizia. E allora ci si chiede, Si tratta in realtà di questioni antiche. Già nei primi secoli della Chiesa si era data una risposta molto chiara, con la condanna attraverso i concili, in particolare dell'eresia origenista e di quella che venne definita con il termine apocatastasi. La Chiesa ha da sempre condannato questa idea, a ogni tanto con sembianze diverse torna ad affacciarsi. In questa occasione non mi fermo a spiegare in dettaglio di cosa si tratta, semmai la prossima volta o le volte successive provarò a parlare un po' di più. In realtà la risposta è sbagliata perché la domanda non è posta correttamente. Mi spiego. Non è Dio la causa dell'inferno, come non è Dio la causa del male, ma le sue creature. Dalle parole della Sacra Scrittura, dall'insegnamento della Sacra Tradizione e anche dall'esperienza dei Santi, nessuno escluso, sappiamo quanto questo sia vero. E cioè che la misericordia di Dio non è affatto contraria alla giustizia. Anzi, l'una non ha senso senza l'altra. Peraltro all'inferno possono esserci solo spiriti impenitenti. E questa è la condizione principale che li mantiene nello stato di dannazione. E vale per gli esseri umani come per i demoni. Ed è una delle cose che probabilmente li fa più soffrire. E rimpiangono. E cioè che sarebbe bastato pentirsi per evitare la dannazione e invece non hanno voluto farlo. E per questo si trovano in una condizione irreversibile dalla quale non possono più uscire proprio perché non possono più scegliere. Anche perché il tempo cessa con la morte. E solo in questa vita terrena c'è dato di poter cambiare. Dopo, la scelta che avremmo fatto si fissa e resta immutabile sia verso il bene che verso il male. L'inferno, quindi, non è voluto da Dio ma dalle sue creature pervertite. Questo va detto chiaramente. E va capito. Quindi dietro all'esistenza dell'inferno c'è il mistero della libertà creata che da dono può diventare un danno se viene usata male. Non c'è la volontà di un Dio che condanna senza appello ma di una creatura che non vuole essere perdonata che rifiuta di lasciarsi amare dal suo creatore. Allora capite bene che quella del pentimento è una grazia enorme che dovremmo chiedere continuamente come suggerisce anche la Bibbia Signore, dammi un cuore contrito e umiliato. Pentirsi significa lasciarsi perdonare amare da Dio. E i padri del deserto chiedevano continuamente per questo motivo il dono delle lacrime e dicevano Signore fa che io possa piangere amaramente i miei peccati. E questi sentimenti nascevano dal fatto che lo Spirito Santo mostrava loro la bruttezza del peccato affinché lo detestassero e lo abbandonassero. Ecco allora che la preghiera del convertito sincero diventa richiesta proprio di pentimento e perdono. Signore Gesù Cristo Figlio di Dio abbi pietà di me peccatore. Chiri e lesum Signore pietà. E questa poi è un po' la preghiera di Gesù no? La giaculatoria della preghiera di Gesù che è molto diffusa in Oriente ma di cui parleremo bene più avanti. Bene per questa puntata vorrei finire qua lasciandovi proprio questa preghiera Signore Gesù Cristo Figlio di Dio abbi pietà di me peccatore e la riflessione proprio sulla necessità del pentimento. Vi ricordo di iscrivervi al nostro blog e ai nostri canali social e anche di fare opera di apostolato facendoci conoscere più persone possibile per chi abbiano la possibilità anche attraverso questi incontri di avvicinarsi di più al Signore e di crescere nel cammino cristiano. Grazie a tutti e il Signore vi dia pace. Grazie a tutti